Avrete sicuramente capito che la nuova protagonista del segreto, è Camila. È una donna straordinaria, e ce ne farà vedere davvero delle belle. Hernando ha davvero un brutto carattere, ma Camila è molto forte e non si farà mettere i piedi in faccia. Ma vedremo mai questa coppia in atteggiamenti più dolci, a quanto pare l'amore e la passione presto triunferanno. Infatti, l'episodio numero 1390, sarà una puntata davvero piena di passione, perché vedremo la primavera a notte di fuoco tra i due sposini. L'episodio dovrebbe andare in onda tra fine marzo e inizio aprile. Per adesso tra i due ci sarà soltanto un bacio infocato e nient'altro. Ma pian piano Hernando capirà che Camila è una donna straordinaria, e inizierà ad innamorarsi di lei. Ma le cose non andranno per il verso giusto, infatti verranno a gala delle brutte cose sul passato di Hernando. Ma l'uomo non è l'unico a nascondere qualcosa, anche Camila infatti nasconde un passato pieno di misteri e brutte storie da dimenticare, ed è per questo che è arrivata a Puente e Vieco. Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni. Grazie a tutti.